Il 27 marzo ci ha lasciato Daniel Kahneman, lo psicologo israeliano considerato il padre dell'economia comportamentale. Mi occupo di finanza comportamentale da oltre 20 anni e lo devo proprio a lui. Avevo infatti da poco iniziato a occuparmi di questo approccio alternativo alla finanza che gli venne attribuito il premio Nobel per l'economia, era il 2002. In verità i padri dell'economia comportamentale sono almeno due. L'altro è Amos Tversky, il coautore storico di Kahneman, che non ha condiviso il Nobel perché è scomparso prematuramente nel 1996. Nel suo libro The Undoing Project, A Friendship That Changed the World, tradotto in italiano con un'amicizia da Nobel, Kahneman e Tversky, l'incontro che ha cambiato il nostro modo di pensare, Michael Lewis ci racconta la storia di questi due giganti del pensiero del Novecento. Lo stesso Kahneman, nel suo best seller Pensieri lenti e veloci, descrive ampiamente il lavoro svolto con Tversky, a cui dedica il libro, ma Lewis va oltre, ci racconta le loro vite, il loro sodalizio scientifico e soprattutto una grandissima amicizia che ha davvero cambiato il nostro modo di pensare. Fino ad allora infatti prevaleva l'ipotesi di perfetta razionalità dell'home economicus. L'irrazionalità e gli errori commessi dagli investitori erano legati solo al gioco delle emozioni. Kahneman e Tversky ci hanno invece fatto conoscere gli errori sistematici del nostro modo di pensare e di ragionare, i cosiddetti bias cognitivi. Se per la finanza tradizionale siamo perfettamente razionali, per quella comportamentale non siamo irrazionali, siamo semplicemente normali, come afferma uno dei primi economisti comportamentali, Mayer Statman, nel suo libro Finance for Normal People, la finanza per le persone normali. Di questo tratta il loro primo famoso articolo Judgment under uncertainty, heuristics and biases, giudizio in condizioni di incertezza, heuristiche e bias, pubblicato nel 1974 su Science. Pur essendo una delle più importanti riviste scientifiche al mondo, Science non è una lettura abituale per gli economisti. La vera rivoluzione arriva infatti nel 1979 con la pubblicazione su Econometrica dell'articolo Proxpect Theory, An Analysis of Decision Under Risk, la teoria del prospetto, un'analisi delle decisioni in condizioni di rischio. Nel suo libro Lewis racconta come la pubblicazione di un articolo di due psicologi su una delle principali riviste d'economia è stata dovuta all'eleganza matematica del modello teorico, che era particolarmente piaciuta all'editore, non tanto al contenuto in sé. E dunque grazie al genio logico di Tversky, che tra le tante cose era uno psicologo matematico, che abbiamo questa teoria fondamentale. Kahneman dal canto suo era altrettanto geniale, ma più intuitivo, specializzato nella psicologia della percezione. Il libro di Lewis racconta come spesso i due amici si isolassero dagli altri per poter lavorare, chiudendosi a chiave all'interno di una stanza per non essere disturbati. Spesso da fuori si sentivano le risate dei due. Chissà, forse ridevano anche perché sapevano quanto è difficile essere razionali, ma anche quanto è bello a volte non esserlo, almeno nella vita, magari non negli investimenti. I concetti che trattiamo in queste videopillole nascono proprio dal lavoro di questi due psicologi che hanno rivoluzionato non solo l'economia, ma tante altre discipline. È proprio grazie a questa grande amicizia che sono nati gli straordinari lavori che ci hanno lasciato, come un preziosissimo dono. Continuate a seguire queste videopillole, in cui proviamo a offrire suggerimenti per cercare di correggere alcuni di quegli errori che questi due geniali amici ci hanno fatto scoprire, anche se forse, chissà, staranno ridendo di noi.